Giovedì torneo letterario all'ex libris di Capua, come è nata questa iniziativa e in cosa è consistita? Sì, noi siamo i promotori del Capo e luogo della Lingua Festival, che si svolge a giugno ormai da otto anni, a Capua quest'anno dal 14 al 17 giugno, e in collaborazione con la casa editrice Caracò, una nuova casa editrice napoletana ma che ha in seno moltissimi operatori del settore, cito Mario Gelardi, autore teatrale, regista, Gomorra per dirne una, insieme a Caracò abbiamo indetto questo bando, ci sono arrivati questi tantissimi racconti, il tema è La mia terra, quindi un forte radicamento sul territorio, alla prima selezione abbiamo raggiunto il numero di 16 racconti che saranno poi gestiti in quattro incontri, il primo c'è stato giovedì, i prossimi ci saranno nei prossimi mesi fino a giugno, dove come proprio un vero e proprio torneo, gli autori leggeranno i propri racconti, sottoponendosi al giudizio di una giuria tecnica e di una giuria popolare, che è quella che accompagnerà le serate all'ex libris, i vincitori di ogni serata entreranno di diritto nell'antologia che Caracò stamperà e che sarà presentata nel festival capo e luogo della lingua e quindi si inserisce all'interno di questa continua attenzione che abbiamo verso gli esordi. Da chi è composta la giuria tecnica? La giuria tecnica è formata da alcuni esponenti della casa editrice Caracò, di noi, dell'associazione Architempo, che siamo insieme a loro i promotori dell'iniziativa e poi di volta in volta, come nel caso di giovedì scorso e come sarà nei prossimi incontri, ci sono degli scrittori che vengono invitati a fare da testimonial e quindi a giudicare i racconti che saranno letti dagli autori.